Musica Mancano pochi giorni ormai ad Halloween, ma c'è ancora tempo per visitare i campi di zucca U-Pig che si sono diffusi anche in Italia. Si tratta di enormi distese di coltivazioni di zucca. Qui è possibile scegliere la propria zucca da intagliare e decorare e partecipare alle numerose iniziative creative per adulti e bambini. Tra i più belli e suggestivi campi di zucca d'Italia, Isola Tulipania, di terno d'isola nel Bergamasco. Il nostro è un campo di autoraccolta, così come facciamo con i tulipani in primavera, anche adesso con le zucche, quindi si entra nel nostro campo. Quest'anno abbiamo una bellissima novità che è il labirinto di mais, quindi tutti i nostri visitatori attraverseranno questo labirinto, pieno di sorprese dove potranno fare delle foto e sbucheranno nel campo. Quindi vedranno poi questa vasta distesa di zucche colorate, ne abbiamo di tantissime tipologie, sia alimentari che prevalentemente decorative ornamentali, naturalmente tutte le Halloween da decorare, tagliare, eccetera. E proponiamo l'autoraccolta, quindi ognuno può scegliere la zucca che preferisce o le zucche che preferisce, senza limite, e pagherà solo quello che porterà a casa. Per i bambini abbiamo anche un'area decoro, quindi i bambini potranno scegliere le loro zucche, fermarsi lì, noi gli forniamo dei kit per decorarle. E naturalmente abbiamo tante cose da quest'anno anche per gli adulti, quindi tante iniziative, la nostra tuli colazione, il tuli picnic, il tuli aperitivo, la tuli merenda con il nostro miele integrale biologico. Quindi è un'iniziativa a 360 gradi che possono vivere tutti, insomma, a tutte le età. Grazie per la visione!